che ha stabilito la natura pubblica dell'acqua nella gestione dei servizi idrici. Come vedete sono semplici appunti che però esprimono la nostra sostanziale contrarietà a quanto previsto in questa legge delega che riteniamo purtroppo un'occasione sprecata, l'ennesima occasione sprecata per intervenire in uno dei temi fondamentali della vita comune, vale a dire la burocrazia e i suoi eccessi. La ringrazio. A questo punto ha chiesto di intervenire l'Onorevole Di Celsone, a Facoltà. Grazie Presidente, Signora Ministra, Onorevoli Colleghi. Scelta civica dà un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso. Riteniamo, partendo dalle prime norme, positivi gli interventi in materia di conferenza di servizi perché riduzione e certezza dei tempi e tutto ciò che facilita l'accelerazione dei processi è da vedere positivamente. E consideriamo altrettanto positive le norme sul silenzio assenso che sono state introdotte tra pubbliche amministrazioni. Pensiamo che sia assurdo continuare a fare un'equazione con riguardo a alcune ameterie tra velocità e illegalità e mancato controllo che poi diventa un'equazione tra lentezza e migliori controlli considerando che nelle aree e nelle zone dove la pubblica amministrazione è più lenta e ha anche più risorse e spesso più personale sono zone dove poi fioriscono violazioni ambientali, urbanistiche di tutti i tipi. Quindi questo tipo di equazione è sbagliata. Non si può lasciare i cittadini e tantomeno le amministrazioni decidenti ostaggio di altre amministrazioni che non decidono anche perché spesso interviene la politica a creare rapporti difficili tra diverse amministrazioni. Quindi siamo totalmente favorevoli con questi interventi. Siamo anche favorevoli agli interventi in materia sia di scia che di autotutela perché anche qui continuare a voler tutelare la possibilità dell'amministrazione di intervenire sempre e per sempre, semplicemente perché cambia idea e parlo della famosa rivalutazione dell'interesse pubblico lascia nuovamente cittadini e imprese soprattutto esposte al capriccio della nuova amministrazione che arriva. Quindi pensiamo che il cambiamento e la limitazione di questo tipo di interventi mantenendo ovviamente gli interventi quando si tratta di una rivalutazione dal punto di vista della legalità del provvedimento siano assolutamente giusti. È anche abbastanza assurdo il discorso che abbiamo sentito in aula molte volte sul fatto che si deresponsabilizza l'amministrazione col silenzio assenso perché il silenzio assenso equivale a un provvedimento e chi avrà fatto scadere un termine in maniera irresponsabile ne dovrà pagare le conseguenze. Quindi è semplicemente una considerazione non corrispondente alla realtà. Siamo molto d'accordo con l'articolo 7 che prevede una generale delega di riordino delle funzioni e dei ruoli della pubblica amministrazione e siamo contenti del fatto che sia stato approvato il nostro emendamento che prevede oltre agli interventi immediati che presumiamo arriveranno già in legge di stabilità un censimento generale di tutte le pubbliche amministrazioni, tutte le funzioni, tutte le competenze delle diverse PA perché in questi anni non è mai stato fatto un lavoro di questo tipo, non è mai stata fatta un'analisi complessiva della nostra pubblica amministrazione statale e locale e una vera spending review, una vera eliminazione delle duplicazioni, una vera semplificazione si può fare solo così, è un lavoro lungo, ce ne rendiamo conto, ma agire solo sul contingente, sulla legge di stabilità di anno in anno o con norme che per loro necessità vengano attuate rapidamente non può consentire una modifica totale. Questo emendamento di scelta civica, noi pensiamo, possa squarciare un velo di omertà che esiste su enti inutili, procedure esaurite, uffici che non si sa bene più di cosa si occupino, duplicazioni create intenzionalmente spesso semplicemente per non ridurre la dimensione delle amministrazioni. Ecco, noi pensiamo che per poter riformare la pubblica amministrazione la si debba conoscere e che fino ad oggi il problema fondamentale dei governi è stato quello di non conoscerla abbastanza, non per loro colpa, ma perché non esisteva questo tipo di strumento. Siamo anche soddisfatti del fatto che, parlando di riforma della pubblica amministrazione in generale, sia entrato un nostro emendamento che chiaramente dice che gli interventi sulle partecipate le devono ridurre, perché il problema non è soltanto un tema di riordino, è il tema di un'esagerata quantità di società, che significa diversificazione di interessi, moltiplicazione di posti. Già nella legge di stabilità scelta civica ha fatto passare degli emendamenti che consentono e che impongono la chiusura delle società con più amministratori che dipendenti. Adesso si deve proseguire quel lavoro, lo si deve proseguire con severità e con rigore, già durante quest'anno, ancora prima dell'attuazione della delega, attuando le norme della legge di stabilità. Perché è vero, come ha detto l'onorevole Gigli poco fa, che la nostra pubblica amministrazione non ha un numero di dipendenti esageratamente più grande di quello degli altri Paesi, è anche vero che nel computo le partecipate non ci sono. E il rapporto Cottarelli parla, credo, di mezzo milione di persone impiegate dalle partecipate. Quindi per poter riformare la pubblica amministrazione è fondamentale quell'intervento. bisogna eliminare società che sono spesso cimiteri degli elefanti, politici o sindacali di persone che sono state piazzate semplicemente in passato per interessi dei partiti che governano quelle amministrazioni. Questa cosa deve finire perché sono soldi dei cittadini che vengono utilizzati in modo assurdo. Tornando all'articolo 7, ci sono interventi sui quali vogliamo scelta civica, vuole vedere i decreti legislativi, aspetta i decreti legislativi per un giudizio finale. Parlo sia delle disposizioni sull'accorpamento del corpo forestale dello Stato, dove pensiamo sia importante mantenere e preservare davvero tutte le funzioni a partire da quelle di prevenzione che sono tra le più importanti e è evidente che la norma di per sé non comporta lo smembramento, l'abbandono delle funzioni, anzi, vigileremo su quello che sarà il contenuto dei decreti e confidiamo che, come si è detto più volte, verrà mantenuta la specificità. Egualmente con riguardo alla riforma delle autorità portuali è importante che ci sia un coordinamento col piano strategico nazionale della portualità e della logistica che è arrivato in Parlamento ed è evidente che la delega che porta rapidità di intervento e che valorizza l'efficienza e la razionalizzazione si coordini con questo tipo di intervento. Per quel che riguarda la dirigenza pubblica, condividiamo che finalmente, seguendo un criterio di merito, entri chiaramente il principio della valutazione, sia per i rinnovi, sia per l'uscita dal ruolo unico e anche il fatto che sia prevista la possibilità della ricollocazione come funzionari, sono tutte cose che erano in emendamenti di scelta civica e siamo particolarmente contenti che l'impostazione del Governo le rifletta. Più perplessi siamo invece sul fatto che siano stati respinti dei nostri emendamenti sulla responsabilità per atti gestionali del dipendente pubblico e del dirigente pubblico, perché noi pensiamo che sì, quando non è coinvolta la politica, debba essere esclusivamente responsabile il dirigente, ma che si dovesse mantenere, avevamo chiesto questo, una esclusione di questa deresponsabilizzazione dei politici per i casi in cui ci sia un coinvolgimento del politico. Penso che questo, sebbene non espresso nella norma, sia comunque nelle intenzioni del Governo, perché ho sentito parecchie dichiarazioni in questo senso, noi non vogliamo che i politici che influenzano la dirigenza sugli atti gestionali, per commettere fatti illeciti, poi la facciano franca. E quindi speriamo che i decreti legislativi, da questo punto di vista, mantengano un'impostazione rigorosa. Esclusiva responsabilità del dirigente quando l'atto gestionale è compiuto da lui, ma responsabilità anche dell'organo politico quando è provato che ci sia stato un coinvolgimento della politica nelle decisioni. Delle partecipate ho già parlato, dei servizi pubblici locali, e vorrei dire che l'impostazione di scelta civica, parlando dell'articolo 15, è che bisogna rispettare la sentenza della Corte, ma che questo non significa che debba essere tutto gestito o lasciato sostanzialmente riportato in ambito pubblico. La sentenza della Corte non ha detto questo. Noi pensiamo che dove le società, la gestione sia poco efficiente dal punto di vista pubblico, sia importante il coinvolgimento dei privati, perché l'equazione privato-illegalità che ho sentito ancora una volta fare ieri, parecchie volte, dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, è inaccettabile per noi. Per concludere, Scelta Civica sostiene con forza questo provvedimento, pensa che ci siano le basi per una riforma della pubblica amministrazione che sia efficiente e finalmente completa e il Ministro Madia potrà contare sempre sul nostro sostegno, a condizione che le riforme siano sempre coraggiose, radicali, complete e che non si finisca, come purtroppo è accaduto in passato, per partire con grandi manifestazioni di principio e poi essere arginati dalle resistenze che vengono sia dalla politica sia dall'amministrazione. E' importante che ci sia coraggio. Questa è una riforma che è fondamentale per il rilancio e la crescita del Paese e questo ci aspettiamo dal Governo. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Quaranta. Prego. Grazie, Presidente. Signora Ministra Madia, la riforma della pubblica amministrazione è stata una delle riforme annunciate fin dall'inizio dal Governo Renzi. Io ho ascoltato con attenzione il suo intervento in discussione generale e vorrei ragionare insieme a lei per valutare il tasso di riformismo presente in questa riforma. Ora, quali criteri potremo adottare insieme considerando che siamo stati eletti nella stessa coalizione di centro-sinistra per valutare questo tasso di riformismo? Io penso due, piuttosto semplici. Il primo, la coerenza con i principi costituzionali. Il secondo, avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini italiani. Vede, sul primo criterio, la coerenza con i principi costituzionali. La nostra Costituzione prevede in maniera chiara il decentramento amministrativo. A me pare che questa riforma, in coerenza anche con le riforme costituzionali e della legge elettorale, vada in segno opposto.